bravo 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 Panto lì proprio negli autogrill la gente rimaneva a guardare ah si? allora la facciamo eh ma è tardi ma sennò così facciamo mettiamo il piattino per te mettevano musica facciamo facciamo veramente quel mazzolino com'è che ti sembra? quel mazzolino no vola vola no vola vola bene dine un'altra che sappiamo ah stai facendo stai registrando? si si sto registrando guarda del cielo ho ripreso anche il palco bravo palco veramente sulla faccia te c'entri mi mettiate vicino a lontanete qualche sera la mia che è la sua roma il palco mi mettiate il palco mi mettiate il palco il palco mi mettiate Grazie a tutti!